Fino a qualche giorno fa avremmo potuto dire di trovarci davanti all'ex chief di Pesaro, ma da oggi dobbiamo invece dire che ci troviamo davanti ad un nuovo cantiere della città pesarese. Come si può vedere infatti di quella struttura affatiscente che si ergeva a due passi dalla spiaggia all'inizio di via Colbe, ora non c'è più traccia. Al suo posto vi è l'inizio di un cantiere tra impalcature, ferro, legno e quella gru sulla quale vi è presente un cartello che racconta ciò che sarà il futuro di quest'area, dove il terreno già scavato ufficializza l'inizio di un nuovo edificio che si ergerà al fianco dell'istituto alberghiero di Pesaro. La ditta è della Giorgini infatti, proprietaria dello stabile, dopo esserselo aggiudicato all'asta nella 2022 per 635 mila euro a seguito di sei tentativi precedenti andati a vuoto, ha dato il via alla fase successiva alla demolizione, che prevederà la realizzazione di uno stabile residenziale moderno, con al suo interno tra i 30 e i 40 appartamenti che spazieranno tra dimensioni di almeno 50 e 75 metri quadri a seconda della loro destinazione, che potrà essere rivolta a turisti e futuri residenti. Insomma, Pesaro saluta definitivamente l'ex chief e si prepara ad accogliere al suo posto un nuovo e moderno edificio. Grazie. Grazie.